Lavoro sul 118, però in cerca di posto fisso. Quindi sei arrivata qua in Toscana? Sì, questa settimana qua, settimana scorsa altro concorso. Ci proviamo. Erano arrivati da tutta Italia alla ricerca del posto fisso. Io da Rutigliano, Bari, lavoro in una struttura privata vicino a casa, e quindi sperando di entrare in un ambito che valorizza un po' la nostra professione. Adesso si sono conclusi ad Arezzo i dieci turni della preselezione per il concorso di infermiere, a cui hanno partecipato 9.508 dei 12.669 infermieri originariamente iscritti. Di questi, oltre 7.000 adesso saranno ammessi al concorso vero e proprio. Entro una decina di giorni sarà comunicato a tutti l'esito della preselezione. Nel frattempo, da lunedì inizieranno le preselezioni per i 6.757 partecipanti al concorso per assistente amministrativo, previste sempre ad Arezzo dal 29 al 31 luglio. Alle prove concorsuali, in questo caso, saranno ammessi i primi 2.500 nella graduatoria preselettiva.